Ilenia Turrin, 39 anni, di Feltre, morta per infarto dopo aver contratto il Covid-19. Nella stessa casa in isolamento vi era già il marito che era risultato positivo il 27 dicembre. Entrambi non erano vaccinati, successivamente sono risultati positivi anche i suoceri che abitano al piano di sopra che invece si erano sottoposti a vaccino. Ora il marito Oscar e suo suocero il giorno prima del funerale della giovane donna sono stati ricoverati e posti sotto ossigeno. Grazie a tutti.